Dunque Junt Enemy Crabbot Mastry Point sono 600.000 600.000 e due ADC Beh, giocheranno benissimo Saranno loro a carriere la partita Qua Velkoz Flash Ghost Mordekaiser Support con la Comet Ash Giungla col press di attack Bene Buonasera Nameless Guarda che Orgut va top ora secondo me Dici? No Se fosse Velkoz con Ghost Day E Flash Bah, 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 bah Nel frattempo ragazzi Vabbè, lo sapete, se a lei vi piace Abbonatevi anche voi e soprattutto Punto esclamativo store e andate A comprare ciò Che ho messo in vendita nel mio shop Ovviamente è uscito E sono molto molto felice Vorrei che la gente comprasse E mi raccomando Se comprate qualcosa dallo store Taggatemi su Instagram Che sia un foto O che sia Post o storie Taggatemi, mi raccomando È molto importante Ma hai pensato di usare corchi O se lo hai usato è normale che non faccia danni Master Fox Io lo gioco trollando support full AP Quindi insomma Vuoi essere la taxa Quindi ragazzi mi raccomando Accedete allo store Domani dovrebbero darmi i dati Il mio manager dovrebbe darmi i dati Per poter accedere E vedere le vendite E così Ma io me le ricordo benissimo Fin da quando ero piccola Spedisci in United Kingdom Mi ricordo le bombe Zero Non dipende da me Prova Cioè sicuramente te lo dice Se sei Se abiti in Inghilterra Sicuramente te lo dice Provaci Non è che Mica spedisco io Cioè non è che spedisco io Che lo store Non è casa mia Lo store È uno store online E ci pensano loro Le spedizioni Niente Pacca Gli ho tolti Perché è inutile Metterli a cazzo Se devo farlo Lo faccio bene E se lo faccio bene Ho bisogno di tempo E il tempo adesso Non ce l'ho Perché ho appena finito una cosa Che è lo store Che è uscito una meraviglia Ragazzi Ho tante persone Che ci stanno facendo I complimenti Sia a me Che al signor Bob Mi sono Veramente Eccitato Da questo punto di vista Siamo top Contro Urgot Dunque dunque Ma se è questo Così Farmo anche meglio Ok Aspettate un attimo Un attimo Un attimo Che sto scrivendo Ad una persona Minions Minions Has spawned Ok Ok Allora Siamo Siamo già Na top Abbiamo Sbagliato Le rune Abbiamo Magic resist E non armor E già si perdono Minions Qua Ecco Ora va meglio Oh adesso posso Attaccarlo Anch'io Qualcuno Si chiederà Perché avevo Unbindato La W Eh Storia lunga Bella Papa Vince Ruspe in chat Per Papa Vince Che fa L'anniversario Grazie mille Bro Ok Non è per niente facile Farmare con Gianna Devo dire Ma questo Già lo sapevo Ok Queste comunque Sono le rune Per chi le volesse vedere Oh Preso Gianna P top Meglio Gianna D No vedrai È bellissima Gianna Full moving speed Recruparo Non devi sapere Nel caso in cui Oh cazzo Resistato l'auto Attacco Se non lo sai Gianna Ha la moving speed Che scala con il suo P Quindi più APA E più è veloce Ed è una figata Questa cosa qui Ho comunque più farm Di lui Per qualche motivo Non so come Perché li ho messo tutti Comunque è veramente Difficile farmare Con Gianna Ash jungle Ha già fatto una kill Ash jungle Sì comunque Non ne prendo uno Ma mi muoiono davanti Gli occhi ragazzi Non capisco Ecco qua Onesto Non ha neanche flashato Oh c'ha l'ignite Questo Back Buono Anzi no Stai vivendo un po' di soldi A casa A casa A casa A casa A casa A casa Ok Ora posso andare back Back Adesso Urgot rege quitato Perché ha perso La Gianna Invece no Eccolo lì Meno male Già anche Pichero fa impressione Senza armor Nelle rune Un po' di differenza Erebbe fatta Tutti a D Tutti a D Porca puttana Tranne i velcots Vabbè ok Ok sti cazzi Ciao K Beh il farm Non è molto Soddisfacente Tuck Ok Ok Tuk Vedete che sono l'autoattacco di Jan Uè Bobby Oddio Ok ho usato l'ignite Finchè non ho la ulti sono al sicuro Ok ho la ulti Non mi ulta Ok prendiamo il Darkseal E la doppia pozza qua Bella Zero Grazie mille del terzo mese di sub E bentornato a una Felix Army Bentornato bro Allora Peccato per sta wave Mo però torno e gli do il cazzo L'Imo è dei Krags Ah davvero? Ottimo Mi tanto servono dei talenti Eh no il Granchion te lo vai a fa Ah si è fatto Si stanno facendo l'Herald però Ok no Si salva No Questo è Wargot Che ha preso uno shutdown Oltretutto Quindi non è una cosa bella Ecco qua Non so dov'è Zed Andiamo via GG Oh grazie l'Issingmore dei Krags Si io paro Non lo sapevo E via Ovvio che stava arrivando Li conosco ormai i miei pollazzi No eh È al 5 Perfino Ash è al 6 Lissine è al 5 Bella Bella Fireg Oddio Andate qua come corre Gianna Eeeh 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 Sono molto divertito Grazie Wargot È stato molto divertente Giocare in allegria Grazie mille di questa Di questo divertimento Hai strafato Eh sì Come ti permetti Andare in faccia Wargot Che ha un quarto di vita Non ti permettere Mai più Zed Chase Always you 3-0 Ash Jungle Comunque È Wargot Crit Eeeh La W non può Crittare Quella cosa divertente A casa A casa A casa A casa W non può crittare Di Wargot Eeeh Eeeh Eh sì Il famoso Famoso Wargot Delle ginocchia Che però Che però Non critta Enemy rampage Enemy rampage No What the fuck Non è lì Non è lì che volevo Farlo Bene Ok 2-6-1-4 Ma cosa sta succedendo In sta partita Ma stanno tutti Intando Altro Altro che già Una top E niente Buono Questo mi fa comodo Però Zed mi tra giù la top Perché sì Niente Zed fa la T1 così Oh Gli ho preso lo shutdown Sono soldi per me questi Gianni C mi hai provato No Buonasera Che bello Trovere l'ispirazione E provare già una full AP Purtroppo il beccato Il game è sbagliato Come fare Quella Quell'ascia Essere 4-0 Chissà cosa sta succedendo Dalle altre parti Niente Abbandonate noi stessi Stai pure lì Molto bene Questo ci fa molto comodo Non ti permette Mai Ok Ma è il mio Va bene Ma è il mio Va bene Va bene I nostri alleati Vogliono sorrendare Vai Tanto È il primo sorrende Grazie raga Per la bella partita Lissine è a livello 7 Oddio Oddio Ok Ok Siamo sopravvissuti All'ARAM Siamo sopravvissuti comunque letteralmente un minion che cammina metteremo siphoni in questa casa di merda ah oppala c'ho la lì che Q sto tirando come sto salvando questa torre guarda io faccio dei gran danni comunque ok è partito un flash heal cioè guarda lì che danni faccio eh piano piano eh se arriva a zed muoio quindi è meglio se vado back ciao eh din 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 I'm back ah uno è andato a half che buona sapersi a volte tornano lì si è fatto una kill 1v1 come ha fatto come ha fatto è fortissimo con i suoi ninja tabby bravo che bravo ragazzi c'è nessuno davvero oh oh Hoho! Ok! Ok, andiamo un attimo, bot. Dove sei? Eh! Bluuuum! Bluuuum! Bravo! Eeeh! Eeeh! Fuck! Pfff! Eeeh! Mamma mia! Bel flash Zed, compliment! Eeeh! Eeeh! Ottimo! Vediamo questo, ragazzi! Ueh, bocelli! Ueh, ueh! Ancora! Oh, ma ammazzatelo! No, non ci crede, è sopravvissuto Zed, raga! Eh, vai! Guardate quanta movement speed mi dà la W adesso! Quindici per cento! Quindici per cento, ragazzi! Di movement speed! Cioè, buttalo un po' via, non lo so! Guardate che è tanto, eh! Spellbinder, certo! Cosa meglio dello Spellbinder per dare AP, tanta AP e movement speed! Guardate quanto è comodo con già una full AP avere il tornado maxato qua! Ok! Potrebbe arrivare gente brutta, andiamo via! Sì, ne raga! Nè un troll! Sì, ne raga! Oh, ma che cazzo! Metà vita con ACU? Io glielo ho anche detto You pings random sometimes Ok Ok Immagino Via C'erano zedeli You pings random sometimes Mamma mia ragazzi Broom Broom Boni sti soldi Mamma mia Eeeh Eeeh Bobby Quella ult te la puoi mettere in tasca Mamma mia ragazzi Partita Gianna Ma chi la ferma più adesso Si si ha ragione lissine ragazzi Pingo random Eh Forse le volte in cui il pingato random erano tutte volte per cercare di salvarlo Forse Eeeh Oppella State pure lì ragazzi State pure lì Ho fatto anche in tempo a scudarla Oddio È finita per voi È arrivata la Gianna full AP Andiamo back Siete pronti ragazzi Alla moving speed Brum Ah no aspetta aspetta Nida migliore Corrabba dove vado ancora più veloce Anche però la leech brain fa comodo Vabbè le faccio entrambe Ma guardate che moving speed ragazzi 510 di base Che meraviglia Che meraviglia Che meraviglia ragazzi Tuk Mamma mia quanto è bella Gianna Quando è così veloce Via E Tu fast for polizia Sono al flash mi salvo Tuk No Ah te ne affanculo Back Dai Equatore ci stack Forza raga Forza Ciao Tommy Bravo Io sto giocando Gianna full AP Moving speed Veramente Rente forte sta Gianna Difficile E C'è un bro Troppi cespugli Non mi piace C'è il bro Prendetelo A casa A casa A casa A casa A casa Ottimo Tuk Fate qua che velocità ragazzi Tuk Tuk E Perfetto C'ho una piantina qua Possiamo rimanere un po' in lane Eh Non è morto Non è morto Questa casa di merda Aaaaaah Ora è morto Stai lì Stai lì Stai lì Ora è morto Devo rubare qualcosa ancora Questo Questo Piacerebbe molto prenderlo Lissin Grazie Grazie mille Com'è umano Lei L'orel Perché non mi piacciono Allora 448 di ap Vediamo adesso Quanto si arriva Ah no Wait Devo comprare questo My bad Arrivo No 523 Moon speed Allucinante John Allucinante John Ragazzi Eh sì È così Che si gioca Le nostre parti Guardate quanto è veloce Presto Il mio team Ha bisogno di me Bravo Lissin Ottimo uso Della GA Quasi Eh Ma viene Ultato Perché Così Presto Oddio No I pappagalli Andate via Ecco Ottime W Mi dicono Dalla regia Mamma mia Che danno Io ho bisogno Del blue buff Però Ottimo Flash Grazie mille Signor cane Vedi Oh cane Basta Ok Mi piacerebbe ottenere Questo blue buff Se possibile Figlio di puttana Cerca sempre di rubarmele Le cose Ok Ottimo Ottimo Adesso andiamo Di lichbane Mi sa Eh perché no Non c'è che ci vuole Molte skill Eh sì Facilissimo Giocarlo così È vero che Upiron Chiunque potrebbe farlo Aaaaaaahhhh Oddio Ma Brava Jinx Porca puttana Che partita ragazzi Che partita Famo sta peggio L'ho rubata Cioè rubata La prima kill era mia Quindi al massimo è lei che ha rubato 4 kill Dalla mia penta No al contrario Lei ha rubato 4 kill Dalla mia penta ragazzi Eh si ma ha rubato la penta raga Io ho fatto una kill E poi se le ha preso tutte e 4 lei E che ci devo fare Eh ho scudo onesto Ok Eh 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 Mamma mia che velocità ragazzi Quanto scudo da Adesso te lo dico subito Mi dispiace io vado Brum Arrivo Arrivo ragazzi Do esattamente 830 831 di scudo Tuk 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 Aspettami lì Aspettami Chi c'è? Ma non c'è Ash qui Siccome è tipo È dietro di noi Però vabbè Sti cazzi E invece c'è Spuglia Vabbè Hello Oh What the fuck La mia Q Non l'ho appreso Molto male Vabbè Amen Oh Una morte Dopo un po' di tempo Mi è calato la P 1300 di danno Sì sì ma è stato onesto Capite voi che Lui è Cioè penetra Io ho 100 di armor Che poi dato da cosa Ha 93 di base Più 7 Che si mia singa L'eree è come R di Teemo Su Dota Ma è una domanda Parlo Non sto capendo Cioè Mi stai chiedendo se esiste O mi stai dicendo che esiste Mi fai chiedendo con Gianna Top È super fattibile Lo conosci? No Non lo conosco Non so neanche se stai parlando di LOL o di Dota Eh no Stavolta no Come pensi di potermi uccidere così? Adesso ho detto di inseguirlo Non è qui? No avrò visto male io Eh Invece stavolta Ma Ma davvero devo comprarmi la Zonia per Zed? Ma porca puttana In realtà basterebbe una E ben piazzata Però porca puttana Dai non voglio mindre il Mejai Per prendermi la Zonia Ragazzi Ma scusa Ma maitato almeno con tutti gli Shuriken? No perché se non maitato almeno con tutti quelli Mi pare un esagerato Cioè capito Ho avuto i danni però Vabbè No Non la conosco l'esistenza Usare Dimmi se usarlo Lux top Lo potresti usare O dirmi se usarlo Lux top Penso sia un aborto Detto sinceramente Io non lo uso perché Lux non mi piace in generale 14 kills Vabbè ma le kill Dopo il minuto 40 Mi siano un po' La neve viene sotto casa vostra? Baffa il culo la neve Non può piacervi Dà soltanto fastidio Il punto è che mi dovrò fare la Zonia Tocca vendere la Leech Bain mi sa Perché il resto mi serve Semplicemente per Zed Allora la Zonia mi fa comodo Devo semplicemente usare bene lo scudo Perché in realtà mi basterebbe lo scudo a me Cioè il mio scudo arriva a darmi Mille di scudo Quindi insomma Ok Così ho Vediamo un po' Vai Altro spellbinder Così ho un botto di AP in più E essere più veloce che con le scarpe In teoria No in realtà sono Oddio un po' più lento In realtà 313 Ma what the fuck Vabbè il mio team raga sta in turn Ma comunque 313 mid non avevo mica visto L'ho notato solo ora Non è una cosa buona La mia E da 127 di AD 533 di AD Arriva con la mia E Nell'è bronzo che ti aspetti Quello che mi aspetto da un Zed bronzo Quello che mi aspetto da Vain bronzo Devo tenermi bene lo scudo Ok Secondo me c'è Zed qui Chi ha flashato? Ok Buono Dai un pochino Quei 120 di AD Han fatto L'elder porca troia Vabbè Killati Va bene così Mannaggia l'elder È ok È ok Non me l'aspettavo raga Lo ammetto L'avevo appena fatto È che lo si vede così poco spesso L'elder Che non te l'aspetti Quando ti one shoti Cioè oh cazzo È vero che c'è l'elder È vero che c'è Ele è un bonobo Morde sta al 14 Vabbè il sap Ah Per loro sta al 18 Essere livello 14 Minuto 45 Beh Upiron tu cosa ti faresti? Rave Zonia contro Zed Dei tirare Sì Però Questo è il mio troll pick Ed è Irelia full up Moving speed E non esiste un oggetto così buono Irelia Cioè andiamo tutti eh Tranquillo Bravi Fate Oh Fate evitare in pieno Bravissime Oppela Vai vai Vi servono le stack di Mejai Isè Isè Vai 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 Sono 17,5 comunque 17,5 e 18 Welcome back to the Fiery South Listen, hello Ma lì che scudo le do, ragazzi Oh, grazie Oh, oh Affanculo Addio GG Beh, 48 minuti di game, non male Io penso di poter dire di aver dato una cariatina onesta Con la mia Gianna Non so voi Grazie Matteo ZTK Due mesi Bentornato in questa Fieryxarmi Bentornato, bro E grazie anche a Catapulta Sergio di 50 cheers Diglielo, Catapulta Sergio, diglielo Punto scramativo store In tutto ciò Eeeh Vediamo Jinx, è stata brava Bene, bene Oh Onorevole Gianna Onorevole Gianna Oh, attenzione Catapulta Hai ragione, Catapulta Bravo, Catapulta Bravi, ragazzi Ha vinto lo sport Gianna a 66k Grazie 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 Grazie